Musica Queste le previsioni per giovedì 29 febbraio. Cielo da parzialmente a molto nuvoloso su tutta la regione, con possibilità di piovaschi sparsi durante l'arco dell'intera giornata. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. I venti soffieranno moderati da sud. I mari risulteranno tutti molto mossi, agitato lo ionio. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV.